Il desiderio dei detenuti. Rosa Laginestra, il nuovo direttore del carcere di Campobasso, l'ha nominata il DAP dopo la ribellione dei detenuti che ha portato l'Istituto alla ribalta nazionale, una nomina che soddisfa il sindacato di polizia penitenziaria. Stamattina il segretario Aldo Di Giacomo ha visitato il carcere e al termine ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione. La seconda sezione, quella interessata dalla ribellione, verrà chiusa. Si riparte tra una quindicina di giorni alla ginestra, adesso c'è il direttore di Serna che sostituisce fino al primo di giugno, che è la data in cui dovrebbe arrivare la dottoressa Laginestra Dallarino come direttore definitivo e non come direttore in missione. Ho fatto una visita all'interno dell'Istituto, la seconda sezione dove sono avvenuti i fatti noti, c'è un decreto di chiusura. Per questo a giorni la sezione chiuderà, perché non ci lavandavamo delle condizioni in cui lavoravano i poliziotti penitenziari. Il capo dell'insurrezione è stato trasferito in altro istituto di fuori regione, mentre resta attuale il problema del sovraffollamento di un carcere omologato per 106 detenuti che invece ne ospita 180. La situazione del carcere oggi non è ottimale, ho avuto modo di riscontrare 4-5 detenuti per cella dove ne dovrebbero essere al massimo 2, questa evidentemente è una situazione molto brutta che è per i detenuti ma anche per gli operatori penitenziari e per la polizia penitenziaria. Poi ci sono i borderline detenuti che dovrebbero soffrire di cure specifiche. L'amministrazione penitenziaria e la politica non se ne frega assolutamente nulla del carcere, che pensare di mettere nel carcere chi ha problemi di tossico dipendente, alcol dipendenza e gli psichiatrici che in realtà con la chiusura degli ospedali vengono mandati qua come se non fossero psichiatrici ma in realtà lo sono. E questo evidentemente non è il modo di scontare la pena per loro, non è il modo di far scontare la pena agli altri detenuti con cui stanno ma non è neanche modo di far lavorare gli operatori di polizia penitenziaria in una situazione che è veramente da immondezzaio. Infine il comandante del carcere Di Giacomo annuncia che Ettore Tomassi usufruirà di un periodo di meritato riposo, nessuna punizione, badate bene, al contrario un attestato di stima per un professionista serio dotato di grande umanità. Nelle prossime settimane probabilmente il comandante deciderà di prendersi un periodo di riposo, dopo un sacco di anni di servizi si prenderà un periodo di riposo che credo sia giusto per il grande lavoro che ha fatto, per il grande impegno che ha profuso per l'amministrazione penitenziaria probabilmente deciderà di riposarsi un po' questo è giusto ed è dovuto, non è una punizione, assolutamente non è una punizione, è il giusto riposo che tocca chi ha lavorato e ha perso profuso per l'amministrazione senza mai lamentarsi.